Stiamo vedendo da un bel po' all'alfabeto ebraico, siamo sulla seconda lettera, la lettera V, che ci parla tantissimo della casa. Abbiamo visto che non c'è il Tempio dove la sua presenza, la presenza dell'Eterno, possa dimorare. Abbiamo visto in Geremia 31-33 che dice ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, metterò la mia legge, cioè la mia istruzione, nella loro mente e la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ecco è la demora dell'Eterno nell'anima della persona, nella sostanza della persona, sì? Vedo che la casa è la demora dell'Eterno. E una casa si fa con delle pietre, una casa si fa con delle pietre e in noi c'è il potere di costruire la casa con delle pietre oppure di distruggerla, sì? Noi abbiamo il potere di tanto di costruirla come di distruggerla. Vediamo Proverbi che parla della donna ma si può riferire anche all'uomo, no? All'umanità. Proverbi 14-1 che parla di edificare o distruggere una casa. Dice la donna saggia edifica la sua casa ma la stolta la demolisce con le proprie mani. Cioè una persona, non parliamo della donna in sé come genere, ma parliamo dell'uomo in generale. Quando una persona è saggia e quando, perché qua sto parlando di due persone diverse, una persona saggia e una persona storta. Quando una persona è saggia e quando una persona è storta. una persona è saggia, no? Perché per la persona in sé, perché è troppo intelligente, ma per la parola, perché ha la parola, sì? E una persona stolta non ha la parola in sé. Perciò uno che ha la parola dentro di sé costruisce la casa, la edifica. E una persona che non ha la parola la demolisce, come lo dice qua, con le proprie mani. Vediamo il numero 24 e insieme vediamo il versetto nel passaggio di Giovanni 2,19. Giovanni 2,19. Parlando del tempio come struttura, no? 2,19. Gesù rispose e disse loro, distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. In tre giorni. Allora i giudei dissero, ci sono voluti 46 anni per edificare questo tempio e tu lo ricostruiresti in tre giorni. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. L'uomo aveva costruito il tempio con delle pietre, sì? Infatti dice 46 anni le costato all'uomo costruire quel tempio, sì? I numeri nella parola non sono scritti a caso e non sono nominati per caso. I numeri nella parola hanno molta, molta rilevanza, molta importanza. Ma il numero 46, cosa è? Cosa significa il numero 46? A cosa, in particolare in questo versetto, a cosa si riferisce? Parla di anni. Ma il 46 corrisponde alla quantità di cromosomi. L'uomo, infatti, è l'unico essere vivente ad avere 46 cromosomi. Gli altri esseri viventi hanno diversi numeri di cromosomi, ma l'uomo ha esattamente 46. E i cromosomi formano parte della struttura del DNA. Sempre parlando di costruzione. Torniamo al versetto di Giovanni, dove diceva che sono voluti 46 anni per edificare il tempio, sì? 46, allora, è il numero di cromosomi, è il numero del uomo, come è formato l'uomo, con 46 cromosomi, nella sua struttura del DNA. Perciò, sempre parlando di struttura e di costruzione. Le pietre. Le pietre, come il corpo umano, si possono distruggere. Le pietre, come abbiamo visto il tempio, si può distruggere o si può edificare. L'uomo, anche si può distruggere. Il corpo umano si può distruggere, sì? Tanto le pietre, come il corpo umano, si può distruggere perché formano parte della dimensione fisica, della dimensione naturale di questa terra, sì? Questa è la terza dimensione. Le cose si possono distruggere e le cose si possono costruggere. Ma nella dimensione spirituale, le cose non si possono distruggere, sì? Sì, sì, si possono edificare. Ma c'è un tempio che non si può distruggere perché appartiene alla dimensione spirituale. Vediamo le sini dueventi. Lo stesso Gesù ha parlato qua a Giovanni, come abbiamo letto già, che dice, che ha detto, che anche se quel tempio era costruito in 46 anni, lui lo poteva, si poteva distruggere e lui lo poteva, invece, ricostruirlo in tre giorni. Perché? Perché sta parlando nell'area spirituale. Efesimi 2.20 dice, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Parlando di pietra, parlando di costruzione. Su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Dice che anche noi siamo edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Ecco, possiamo essere un tempio santo nel Signore e una dimora di Dio nello Spirito. Vediamo prima Corinthians 6.19. Parlando della cassa, beh, parlando del tempio. E viene edificata con delle pietre. Ci sono pietre fisiche, come abbiamo visto, in Giovanni 2.19, e ci sono pietre spirituali. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi, infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro Spirito che appartengono a Dio. sta parlando del tempio, del corpo nostro, che è il tempio dello Spirito Santo. e che lo dobbiamo edificare, lo dobbiamo appunto prenderci cura di questo tempio, perché non è nostro, parla qui l'Apostolo Paolo, non è nostro ed è stato pagato a caro prezzo. Prima Pietro, vediamo, sempre parlando del costruire, del edificare questa tassa. Prima Pietro, due e quattro. Seguitemi qui, interessantissimo, accostandomi a lui come a pietra vivente, reggettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi come pietre viventi, non solo lui, pietra vivente, anche noi, pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali da dite a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nella scrittura si legge infatti, ecco io pongo insieme una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Wow, quando ho cominciato a parlare di pietre viventi, io sono andata un po' più in là, in profondità, in profondità, a cercarli. Ci sono state, ci sono nominate delle pietre, in Ezechiele, ora lo vediamo, parlando dell'eternità passata. Vediamo Ezechiele 28,14, pietre nell'eternità passata. Ricordatevi che noi siamo dentro una parentesi in questa eternità, sì? Io penso che questa parentesi serve al Signore per capire i nostri cuori, per sapere di noi, se lo cerchiamo, se lo amiamo veramente, così come ha messo alla prova a Lucifero, così come ha messo alla prova a noi nel giardino dell'Eden. Siamo qui, ognuno abbiamo l'opportunità di scegliere, di essere delle pecore oppure delle capre. Ezechiele 28,14 dice, tu eri un cherubino unto, cosa era Lucifero? Un cherubino unto, ed era un protettore, lui era un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di Dio e cosa faceva il cherubino? Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Il Signore non ha a nessuno, a nessuna della sua creazione insieme a lui, obbligato. Insieme a lui come dei robot, no? Io vi ho creato, voi mi dovete amare, sì o sì? No, il Signore questo non lo accetta, lui vuole che siamo accanto a lui e che lo amiamo per la nostra volontà. Sedici. Per l'abondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Si è spostato da poter essere, come dire, dare la mira al, proprio al versaglio, no? Dare il versaglio, ecco, questo è non pecare. Dare il versaglio. Non dare il versaglio è pecare. Perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto. Nell'originale dice ti ho eliminato. Dice ti ho eliminato, oh cherubino, protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Tu che camminavi nel 14, tu che camminavi nelle pietre o che passeggiavi nelle pietre di fuoco e che eri protettore, lui proteggeva, proteggeva, scusate queste pietre, nel 16 dice che lui fu stato eliminato ed è tu, cherubino, protettore, sei stato eliminato di mezzo alle pietre di fuoco. E io mi domando, magari queste pietre avrebbero un senso, perché la ripete due volte nel versetto 14 e nel versetto 16. Il protettore, ripeto, che camminava in mezzo a queste pietre e poi che fu eliminato nel in mezzo a queste pietre, aveva il compito di proteggerle. Le pietre sono per le edificazioni. E qua c'è una profondità tremenda, non andremo a vedarla oggi, ma sicuramente nella parola si parla troppo delle pietre, dal Genesi all'Apocalisse. Ed è un argomento molto, molto interessante. E vi lascio io con questa domanda, per concludere. E vi lascio io con una domanda, con una interrogazione gigante. Magari queste pietre si riferiscono a noi? Domanda. Magari queste pietre si riferiscono a noi? Eravamo noi nell'eternità passata. Cristo, ricordiamo che Cristo è la pietra del l'anguero, e non le pietre vivente, formando parte della vet casa. Amin? Vilasio l'ora con la pace del Signore, Shalomna del Genio.